buongiorno a tutti sono luciana vendramin agente immobiliare di habitat group oggi vi voglio presentare un quadrilocale abitabile da subito ci troviamo a torino in via giovanni martina a due passi da strada san mauro venite con me l'appartamento è sito al primo piano con ascensore ed è composto da ingresso sul soggiorno con uscita sul terrazzo disimpegno con cucina abitabile e ripostiglio la zona notte anch'essa servita da disimpegno è composta da due camere da letto e doppi servizi completa la proprietà una cantina al piano scale un box auto grazie se stai cercando una soluzione come questa comoda ai servizi ma soprattutto in quest'osi di pace in mezzo al verde chiamami e fisseremo subito un appuntamento ciao a presto grazie grazie grazie